Le piazze Garibaldi, Falcone Borsellino e Mercato Grazia, la stazione Linee e bus extraurbani, la Villa Cordova dall'ingresso di Viale Conte Testa Secca, Villa Medeo dall'ingresso di Viale Medeo, il Parco Giochi di Santa Barbara e la Biblioteca Scarabelli. Questi punti di accesso wifi individuati in città dall'amministrazione. I punti di accesso sono nove. Precisa l'assessore ai sistemi informatici Giuseppe Lamenza, ne abbiamo voluti mettere due in biblioteca, uno all'esterno ed uno nelle sale lettura, che ci apprestiamo a riorganizzare per un afflusso più numeroso e assiduo di persone. Basterà dunque scaricare un'applicazione e così si navigherà facilmente e in modo gratuito. Ovviamente ci si potrà connettere vicino ad uno dei punti hotspot rintracciabili attraverso apposita mappa o elenco e si dovrà seguire una procedura di registrazione e creare un proprio account tra le possibilità anche quella dell'utilizzo del sistema pubblico di identità digitale e infine verrà richiesta la configurazione della rete. Il servizio rientra nel progetto Piazza Wi-Fi Italia, promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico ed è stato realizzato grazie al lavoro dei sistemi informativi comunali. Il Comune è aderito ad un'iniziativa, spiega ancora l'assessore Lamenza, del Ministero dello Sviluppo Economico che ha sostenuto le spese per gli apparati di rete per l'accesso, mentre il Comune sostiene i costi di connettività internet. La caratteristica interessante riguarda il fatto che con la stessa app da scaricare ci si potrà connettere anche da tutte le altre città del network Wi-Fi Italia, basterà installarla e configurarla in pochi passaggi. Ci siamo mossi su questo fronte già al momento dell'insediamento, prosegue ancora, ma abbiamo dovuto aspettare un bel po' per vedere avanzare l'iter e vedere completata l'attivazione del servizio in città. Ormai è fatta e adesso ci interessa solo testare bene il servizio e conoscere le impressioni dell'utenza, conclude, per provvedere a ridimensionarlo eventualmente in modo corrispondente alla domanda.